Salve a tutti giovani droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di R2D2. Io sono sempre Gaetano e oggi voglio parlarvi di un argomento a mio modo di vedere davvero fantastico, e cioè la storia completa e il passato del padre di Rey, nient'altri che tra virgolette il figlio di Palpatine, un personaggio del quale conoscevamo davvero pochissimo e che tramite una nuova opera canonica invece abbiamo scoperto moltissimi retroscena interessanti, dei quali vi parlo nel dettaglio come sempre dopo la sigla. Prima di parlare del passato e soprattutto dell'importante storia di Daytan, il nome del padre di Rey, voglio soffermarmi su quello che è stato il piano di Palpatine, che è solo uno dei piani che ci fanno capire quanto l'imperatore fosse calcolatore cervellotico. Pensate infatti che i piani della clonazione e quindi i piani per rendersi immortale e poter far convergere la propria essenza in un altro essere vivente risalgono addirittura agli anni in cui l'impero era ancora attivo. Già la serie a fumetti Darth Vader 2020 infatti ci aveva rivelato che su Exegol l'imperatore aveva una vera e propria flotta e portava avanti esperimenti di clonazione nel 4 ABY, e cioè nel periodo di Episodio 6, poco prima che l'impero crollasse. Ma tramite una nuova opera canonica, e cioè il romanzo Shadow of the Sith, ambientato nel 21 ABY, ma con tantissimi flashback nel passato, scopriamo che i piani di Exegol erano portati avanti da tantissimi anni prima delle vicende di Endor. Dovete sapere infatti che l'essere che inizialmente era stato denominato Labominio e che poi prenderà il nome di Daytan, e cioè proprio il padre di Rey, è nato su Exegol nel 12 BBY, e quindi nel pieno dell'egemonia imperiale. Questo ci fa capire, come vi dicevo, di quanto Palpatine fosse previdente nei confronti sia della caduta dell'impero, tramite altri piani che abbiamo visto soprattutto nelle opere di Aftermath, e soprattutto nella possibilità che Darth Vader, il suo apprendista, lo tradisse. Un qualcosa che egli temeva sempre di più, soprattutto verso gli eventi di Episodio 6, come narrato nella serie a fumetti Darth Vader 2020. Ma andiamo con ordine. Daytan nacque su Exegol nel 12 BBY, come un essere definito Strandcast. Lo Strandcast è un essere vivente frutto di esperimenti di clonazione, che però non riguardano la classica clonazione, e infatti non permettono di avere delle identiche copie del paziente zero, diciamo così, ma riguardano degli esperimenti di clonazione caminoana uniti alle arti oscure, che i cultisti Sith portavano avanti su Exegol per poter garantire a Sidious dei vasi, diciamo così, degli involucri abbastanza potenti da poter contenere il suo immenso potere. Anche Snoke, per farvi un esempio, era uno Strandcast. Nel 12 BBY, quando venne affrontato l'esperimento dello Strandcasting, tutti gli altri esemplari morirono, tranne quello che fu poi nominato l'abominio. Ma anche in questo caso, anche se questo essere godeva di ottima salute, c'era un problema molto grande, e cioè il fatto che egli non era in nessun modo sensibile alla forza. E per questo motivo Sidious l'aveva sempre disprezzato, ma nonostante questo, gli aveva permesso di sopravvivere, tenendolo imprigionato su Exegol, poiché proprio per il fatto che l'abominio viveva in ottima salute, sarebbe potuto essere importante per altri esperimenti riguardanti la possibilità di trovare un corpo adatto a contenere il potere e lo spirito di Darth Sidious. Perché ovviamente, nonostante il fatto che colui che sarebbe stato il padre di Rey non era sensibile alla forza, aveva comunque dentro di sé il sangue di Palpatine. La questione dello Strandcasting potrebbe ricollegarsi a quanto abbiamo visto nel finale della prima stagione di The Bad Batch, dove, come ricorderete, la scienziata Nala Se era stata portata nel mondo di Wayland, in cui sicuramente si trovano dei laboratori in cui vengono svolti esperimenti di clonazione, come abbiamo visto anche in The Mandalorian con il laboratorio di Nevarro. Tutte questioni delle quali avrò modo di parlarvi in maniera approfondita in altri video. Tornando però all'abominio, come vi dicevo, egli crebbe su Exegol in prigionia, fino a che arrivò nella sua vita a un momento fondamentale che gli permise di fuggire dal pianeta. Un collegamento canonico davvero splendido, che ci viene narrato all'interno della serie a fumetti Darth Vader 2020. Come sappiamo tramite quest'opera a fumetti, infatti, Darth Vader era riuscito a scoprire i piani di Darth Sidious ed era riuscito ad arrivare su Exegol per potersela vedere con il suo maestro. Il romanzo di recente uscita Shadow of the Sith si collega splendidamente alla serie a fumetti, perché ci narra che l'abominio era riuscito a scappare dal pianeta tramite l'aiuto di uno schiavo di specie Saimeong, che si chiamava proprio Daytan, e dal quale egli prese il nome. Egli quindi riuscì a lasciare Exegol nascondendosi all'interno della nave di Vader, dove si trovava anche Uchi di Bestun. E perciò nel 4 ABY, e cioè quando aveva 16 anni, riuscì finalmente a scappare dalla prigionia di Exegol, dove si trovava fin dalla sua nascita. E perciò cominciò per lui una nuova vita, lontano dai Sith Eternal e soprattutto da quell'infernale pianeta. Negli anni successivi egli si innamorò e si sposò con un'umana di nome Miramir. E dalla loro unione, nel 15 ABY, nacque proprio Rey. Nel frattempo, come sappiamo, dopo le vicende di Episodio 6, Palpatine fu costretto a trasferire la propria essenza in un altro corpo clonato, ma che comunque non soddisfava ancora appieno i canoni di potenza che servivano per contenere il suo enorme potere. Anche e soprattutto poiché, nonostante egli avesse pianificato da tempo la possibilità che il suo apprendista lo tradisse, i Sith Eternal non erano riusciti nel corso degli anni a trovare ancora una quadra in merito alla creazione di un essere perfetto, che potesse essere sia in buona salute e sia contenere lo spirito di Palpatine. Il caso volle che quell'essere nascesse qualche anno dopo, proprio come progenie dell'abominio, e cioè quel Deitan che Palpatine aveva sempre screditato poiché non sensibile alla forza. Rey, infatti, nel quale scorreva il sangue di Palpatine, non era solamente in buona salute, ma godeva anche di una spiccata e fortissima sensibilità alla forza, e sarebbe stato un contenitore perfetto per poter finalmente contenere lo spirito di Palpatine senza l'utilizzo di macchinari che ne evitassero il deterioramento corporale. Per questo motivo il Signore Oscuro, che si trovava, come sappiamo, indebolito su Exegol, aveva fatto di tutto per poter recuperare sua nipote, mandando proprio l'assassino Ochi di Bestun alla ricerca della famiglia di Rey. E qui arriviamo alle vicende che più o meno conosciamo anche tramite Episodio 9, e cioè il fatto che Rey fu poi lasciata sul pianeta Jakku nel 21 ABY, quando aveva sei anni, per evitare che Ochi di Bestun la trovasse. E perciò la bambina non era stata abbandonata, come ella aveva sempre creduto, ma i suoi genitori l'avevano lasciata su Jakku ad Ankar Plut, proprio per evitare che l'assassino la trovasse e la portasse da Darth Sidious. Altra cosa che poi sappiamo sempre tramite i flashback di Episodio 9, sia Daytan e sia Miramir, la madre di Rey, trovarono la morte sempre nel 21 ABY, proprio sulla Bestun Legacy, la nave di Ochi che fu poi ritrovata dalla stessa Rey sul pianeta desertico di Pasana nel 35 ABY. Come potete vedere quindi il romanzo canonico Shadow of the Sith, che è uscito di recente in lingua inglese, e che si spera verrà tradotto presto anche in italiano, ci svela una marea di dettagli su quello che è il passato del padre di Rey e soprattutto su quella che è la sua storia, che si intreccia a doppio filo con quelle che erano le ambizioni di Palpatine e soprattutto con quelle che sono state le azioni di Darth Vader, e che ci permette di avere un quadro molto più completo di ciò che è accaduto nel post-Endor, negli eventi che ci porteranno poi alle vicende della trilogia sequel, che sicuramente verranno arricchiti ulteriormente da tante altre opere in uscita e probabilmente già dalla seconda stagione di The Bad Batch, in cui come vi accennavo si spera potremo vedere qualche elemento in più riguardante le modifiche alla clonazione caminoana e la nascita degli Strandcast tramite il complesso processo di Strandcasting. Ovviamente in futuro tramite tanti altri video mi occuperò di approfondire anche quelli che furono i piani di Palpatine in caso di una sua dipartita o della caduta dell'Impero. Ditemi nei commenti cosa ne pensate della storia del padre di Rey e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi!